Siamo al Proving Ground di Balocco con la nuova 4 porte Maserati e siamo qui a testare notturna, quindi vettura senza camuffature, una serie di particolari come la velocità massima e le prestazioni della vettura e le rombosità allo scarico. La vettura è completamente nuova sotto ogni punto di vista, è una vettura con un nuovo motopropulsore, nuove sospensioni, nuova linea sterzo, naturalmente un nuovo design e un nuovo interno, la vettura rispetto alla 4 porte attuale ha un passo maggiore e una carreggiata maggiore, quindi l'abitabilità interna è migliore e anche come prestazioni in motore siamo superiori rispetto alla gamma attuale 4 porte. La futura 4 porte non avrà i montanti porte, quindi stiamo verificando i flusci aerodinamici con cristalli che si appoggiano unicamente sulla guarnizione e non rientrano quindi nel montante.